Natura morta con banane e fighe, quadro olio su tela, 50x70. Quest'opera rappresenta un insieme di elementi concernenti una vita di studi trascorsa senza delle esperienze sessuali, fossilizzata su ambiti più utili e concreti. In pratica quest'opera sta ad indicare, come è possibile vedere sullo sfondo, un'altarenanza tra i valori morali e quelli economici, mentre in primo piano è possibile vedere dei valori basati sullo studio senza delle esperienze particolari. Anche quest'opera è in vendita nei link che troverete in descrizione, condividete il video, altrimenti farete solo una vita di merda e non avrete i vostri obiettivi. Arrivederci.